Buongiorno a chi non si è perso di vista io sono Lorenzo e soffro di una grave dipendenza quella dello stop motion. Raga io ci sto andando sotto e voglio che ci andiate sotto anche voi ma solo dopo la sigla ovviamente essendo le prime armi come potete notare nei cortometraggi che ho caricato che sono bellissimi sono stupendi ma pieni di lacune lui oscar qui salta non cammina o scivola sembra come se fosse sul ghiaccio ed è inutile che tu cerchi di finirmi una mano nell'occhio lo sai anche tu che scivoli mi sono dovuto stavo dicendo scusate ovviamente mi sono dovuto informare io stavo leggendo come avevo detto anche da una storia instagram il libro su tim burton sono arrivata da parte di stop motion ci sono andato sotto mi sono messo a guardare cortometraggi in stop motion e poi e poi ho comprato questo non so se riesco a farvelo vedere bene questo qua esattamente stop motion animation vi metto un po di foto dell'interno per stuzzicarvi un po l'appetito ragazzi questo qui non è un manuale di stop motion questa qui è la bibbia dello stop motion vi metto anche il link in descrizione e ve lo dico se volete provare a fare stop motion senza questo andate poco lontano con questo imparate qualunque tipo di arte stop motion a passo 1 vi chiamiamola passo 1 ok l'arte del passo 1 è molto molto differente esistono tantissimi tipi di stop motion tantissimi tipi di tecnica passo 1 di filmati a tecnica passo 1 esiste quello con la plastilina che il più utilizzato esiste quello sulla lavagna ovvero che tu fai la foto a un'immagine cancelli la rifai anche si muove esiste l'animazione a passo 1 coi disegni esiste il lego adesso sta prendendo tantissimo lego poi esistono i pazzi furiosi ad esempio quello che dà nome a video è un altro pazzo furioso che usano direttamente i manichini che è una cosa difficilissima perché loro non sono fatti per stare insieme sono fatti per stare in piedi e quindi cadono continuamente ma grazie alla mia musa ispiratrice io ho comprato il patafix quindi io ci metto il patafix sotto i piedi è un buon 70 per cento del lavoro lo fa il patafix per tenere in piedi sto povero sto povero pupazzetto qua che vi saluta saluta del corto che da nome a questo video vi metto il link perché è fenomenale perché poi ovviamente c'è il colpo di scena finale non ve lo dico andate a vederlo alla fine del video andatevi a riprendere il cortometraggio vi faccio vedere una pagina a caso ad esempio questa qua che è del cortometraggio at opera vedete c'è il il qr il codice qr che vi manda direttamente al al corto che li trovate su vimeo i programmi perché ovviamente esistono dei programmi per fare per fare la stop motion in cui tu puoi seguire le foto che fai ed è una figata vi metto tutti i link in descrizione programmi qualche link per il libro il link per i pazzetti tutto in descrizione ma fidatevi tutto il resto va benissimo potete questo questo raga se volete fare stop motion comprate questo libro non costa tanto sono 20 euro ma vi risolve la vita e vi spiega veramente tutto vi spiega veramente tutto la stop motion è una delle tecniche più artigianali e illusorie del della settima arte del campo cinematografico ti sembra veramente di essere un mago quando li vedi muovere quando li vedi camminare quando alla fine del montaggio hai un prodotto ad esempio io per fare la scelta ci ho messo una settimana e mezza per una settimana e mezza io sono stato chiuso in questa camera al buio perché avevo bisogno soltanto di poche luci e lei è la luce principale vedete che rompe le balle ancora adesso dava fastidio quindi stavo al buio grazie ad alexa non devo gridarlo perché se non mi senti ad alexa spegnevo accendevo avevo i metti attaccati quello riuscivo a gestire con lei però tutto il resto se vedete un tunnel quindi io cosa dovevo fare ogni volta aprivo metteva a posto oscar globe il pazzetto richiudevo una settimana e mezza così senza contare il tempo della sceneggiatura perché comunque almeno due tre o due giorni per pensare all'idea e scriverla e cercare di avere un minimamente chiaro non ho fatto tutta la preproduzione però avere minimamente chiaro cosa doveva succedere mi ha portato via praticamente in tutto più più il montaggio due settimane due settimane per cosa per un minuto di video per un minuto di corto alla fine perché se andate a vedere la parte principale del del cortometraggio dove lui si muove dove c'è la stop motion è più o meno un minuto forse anche meno addirittura però la soddisfazione che mi ha dato il senso di realizzazione che ho avuto nel momento in cui avevo un prodotto mio totalmente mio fatto con quello che avevo con pochissimo e soprattutto spendendoci energie e tempo e ce ne sprechi veramente tante sia di energia sia di tempo io stavo qui dentro al buio circa 8 9 ore e ci sto ancora adesso perché sto facendo il terzo il terzo cortometraggio che non so se uscirà venerdì prossimo o quello ancora dopo vi metto una foto di come camera mia per farvi capire vedete dietro ecco io ci sto lavorando da sei giorni e sono sei giorni che io metto la gli stessi vestiti addosso perché non riesco a raggiungere l'armadio e non posso muovere niente adesso c'è un sacco di roba però sul 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 teatrino di posa c'è un sacco di roba però due tre cose sono fermi immobili da sei giorni quindi io spero tantissimo tantissimo che qualcuno di voi si prenda la briga di comprarsi il libro innanzitutto il manuale innanzitutto di prendere una telecamera o anche un cellulare ci sono anche dei programmi per i cellulari vi li metto in descrizione delle app semplicemente delle app e si metta a fare stop motion che ci provi almeno spero che tanti che raggiungeranno questo video che vedranno questo video siano alla ricerca di una direzione per cominciare a fare stop motion e spero di avervi aiutato più che io che posso metterci solo credo la gran passione per il momento perché tecnica poca ma soprattutto di avervi consigliato questo perché sto qui io sono sbalordito e la cosa bella è che non è che vi insegna in modo accademico vi insegna facendoci facendo facendoci e facendovi vedere i cortometraggi premiati in tutto il mondo con svariate tecniche quindi vi vado a finire mi vado a finire il terzo corto per gli iscritti ci vediamo venerdì prossimo sempre alle 14 30 sempre sul canale di lorenzo ciak ciao 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 ciao